Buongiorno, eccoci anche stamattina nella nostra edicola, iniziamo dal Roma. Capodichino, i passeggeri premiano lo scalo. Secondo per servizi e transito viaggiatori, previsioni più che rose per quest'anno. Poi la cronaca, agguato al RAS, ferito un bimbo, marfella nel mirino dei killer, un innocente colpito alla spalla. Funicolare, nuove gare, si allungano i tempi, lavori con importo al rialzo, gambizzato nel raid, i pistoleri alla sbarra perse entrambi gli arti. Giallo in carcere, morto l'ex pentito, era tra i capi dell'8-0. E poi a Cerra, pronto soccorso di Villa dei Fiori, calci e pugni, feriti due infermieri e un operatore. Il Napoli, quara in dubbio, oggi provino decisivo. Osimen, lo scudetto è il nostro obiettivo. Il governo delude i benzinai che confermano lo sciopero. Le aziende, con prezzi così, dovremo fermare i tir. Ancora cronaca, sangue al rione Sanità, accoltellato un ventenne. L'ipotesi è quella di un regolamento di conti tra bande all'interno del Roma. E allora, Capodichino nella top 5 degli aeroporti, al secondo posto in Italia dopo Roma-Fiumicino per Servizi, a luglio la crescita maggiore di passeggeri. Nuove rotte internazionali, mentre il sito rientra nel programma 4 più Transition per il risparmio delle emissioni di CO2 in atmosfera. Il rincaro della tassa non ferma il record di transiti. Sui voli low cost, Torino guida la scalata seguita da Napoli, che guadagna terreno rispetto alle altre città. Napoli, scalo preferito anche dai croceristi. Il portale web, la tappa scelta anche da viaggiatori internazionali, grazie ai tour preimbarco. Andiamo ancora avanti con il Roma. Benzina, mediazione fallita. Caro Carburanti, cambia il decreto. Sanzioni ridotte da 6.800 euro e i costi continuano a salire. Non basta la riduzione delle multe. I gestori confermano lo sciopero. La verde servita tocca 1,966 euro al litro e il diesel 2,014. Il 24 e 25 gennaio, chiusi anche in self-service. Altro che cartelli, diminuire i prezzi, l'allarme degli autotrasportatori. Se continua così dovremo lasciare i camion in garage. Colpito il trasporto marittimo. Allarme sul gasolio per autotrazione aumentato a dismisura. Alla fine pagheranno gli utenti. Ancora dal Roma. Messina Denaro ha scoperto il terzo covo del boss. L'autista si difende, non sapevo fosse lui. Il padrino non si collega al processo per le stragi. Nella prima casa trovati appunti, documenti con sigle e numeri di telefono. Poi cambia la cartabia, si procede d'ufficio in presenza dell'aggravante di mafia. Ok, in consiglio dei ministri dal disegno di legge del guardasigilli. La Banca Centrale Europea promette nuovi aumenti dei tassi. Affonda Piazza Affari. Cala lo spread. Falchi dell'Unione Europea contro Italia e Francia. E poi una nuova provocazione russa. Catturati missili anticarro di fabbricazione italiana. L'Iran non riconosce i territori ucraini annessi da Mosca. Proseguendo sempre dal Roma. Andiamo sui territori. Salerno, Frode, Carosello. Evasione da 9 milioni. La finanza smonta il castello di società e ricostruisce centinaia di operazioni fittizie per non pagare le tasse. Quindi da Salerno questa maxifrode carosello riguardante la vendita di carburante. Frasso Teresino, siamo nel Sanni. Omicidio Matarazzo a febbraio la sentenza d'appello. Poi Benevento, Picchia la moglie, 57enne allontanato da casa. Il provvedimento è emesso dal GIP su richiesta della procura che indaga sui maltrattamenti. Avellino, Lofantina chiusa per Lioni si torna al passato. Disaggi sull'Ofantina e poi Benevento, ancora falso medico. In aula i familiari della donna morta. Prima udienza del processo ad Angelo Graziano, 33 anni, curava il cancro con la fantasia. E poi questa notizia che è diventata virale sul web. Da Capaccio esonda il Sele a Ponte Barizzo. Cinghiali a nuoto nel corso d'acqua. Andiamo ancora avanti dal Roma. Sempre dai territori, sempre dal Sannio. Cede un'ala del cimitero, bare in un burrone a Sant'Agata dei Goti. Problema noto da anni ma nessun intervento è stato eseguito. Amministrazione comunale sotto accusa l'ira dei familiari dei defunti. E poi in Irpinia, Prata Principato Ultra, l'omicidio Manzo, la figlia, non dice chi le forniva la droga. Quelle di Romina sembrano dichiarazioni a uso e consumo di trasmissioni televisive. Poi a Casal Velino e siamo di nuovo nel Salernitano, la mareggiata spazza via i Lidi, la solidarietà di Fibba Campania per le difficoltà degli operatori balneari dell'intero Cilento. Andiamo sempre avanti dal Roma. Torniamo a Napoli, al Rione Sanità, ventenne accoltellato al collo. Alla Sanità, notte di sangue tra i vicoli. Trafitto l'incensurato Ciro Romeo, ipotesi, regolamento di conti tra gang della zona. Poi una task force al vasto, catturato specialista dello spaccio. Non c'è sposito, deve scontare una condanna a tre anni e mezzo, denunciato un trentenne per possesso di cocaina. E poi le elezioni forensi, avvocati, passo indietro di Elena De Rosa, la tesoriera uscente, non sarà in campo per il rinnovo del Consiglio a Napoli. Chiudiamo in Roma con lo sport. Pagina 17, Napoli, miglior attacco contro la peggior difesa, quella della sedernitana, ma Quara è in dubbio. Verso la Rechi, Spalletti riannode i fili del suo Napoli e si aspetti i gol e la vittoria, ma il Giorgiano è fermo. Cviccia non si è allenato nemmeno ieri, è rimasto a casa a scopo precauzionale a causa di qualche decimo di febbre. Oggi il provino decisivo si avrà smaltito, l'influenza sarà disponibile. C'è ottimismo, ma per domani l'allenatore allerta Raspadori ed Elmas per sostituire il Giorgiano. E qui un po' il borsino di Napoli e Salernitana. Vedete i numeri di Napoli e Granata. Il Napoli con 15 vittorie e due pareggi e una sola sconfitta, più 30 nella differenza reti. 44 gol fatti, 14 subiti, mentre la Salernitana la peggior difesa con 35 gol subiti e 4 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte. La carica di Osimen, lo scudetto è il nostro obiettivo. Il nigeriano dice Spalletti, la mia fonte di ispirazione. Gli altri sono tutti a disposizione. Sarà replicato l'11 anti Juve, salvo imprevisti. Formazione confermata, appunto. L'unico dubbio è, cara Schelia, questo per quanto riguarda il Roma. Adesso prendiamo la Repubblica Nazionale. In apertura le intercettazioni. Il governo diviso sul nordio. Il ministro alle Camere, non siate supini ai PM. Buongiorno lo corregge. Palazzo Chigi tenta di arginarlo con i sottosegretari. Trovato intanto il terzo covo di Matteo Messina Denaro. Nel primo sono stati rinvenuti i pizzini e l'agenda telefonica del boss. Barbieri al MEF. Rimosso Rivera. La cacciata decisa dalla Meloni. E poi l'inchiesta sul sistema fidanza. Lo scontro tra capi di Fratelli d'Italia. Il caso di corruzione che sfiora la Premier. Le interviste. Giuliano Amato. Ecco perché abbiamo ancora bisogno dei diritti. Edith Brook. Tornati fascisti. Giudici. Si girano dall'altra parte. Andiamo all'interno di Repubblica. Nordio contro il PM antimafia. Le camere non siano supine. Il guardasigilli a Montecitorio tiene il punto sulle intercettazioni solo per mafia e terrorismo. Il terzo polo apprezza. Polemiche da PD e 5 Stelle. Crociata che indebolisce la lotta ai clan. Via libera in CDM. Alle modifiche sulla cartabbia. Il ministro porta in CDM un mini DDL per cambiare le norme sui reati perseguibili a querela. Qui poi abbiamo l'intervista alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato. Esponente della Lega Giulia Buongiorno. Ascolti utili anche nei reati di corruzione. Ma troppe fughe di notizie. In passato ho notato troppi errori di trascrizione. Quelle irrilevanti non vanno divulgate. Il retroscena sulle parole di Nordio. Parole sbagliate fuori linea. L'insofferenza nel governo per le uscite del guardasigilli. Anche in Parlamento la destra si divide sulle dichiarazioni del ministro. Un errore. Inimicarci proprio adesso il fronte dell'antimafia. Proseguendo ancora. Insulti e faide tracordate per un posto in comune. Ecco il sistema Fratelli d'Italia. L'indagine condotta dai finanzieri milanesi prende spunto dalle misteriosi dimissioni nel 2021 del consigliere di Brescia Giovanni Francesco Acri. Vicino alla ministra. L'ex consigliere viene portato alla corte di Razov. Lavorerà i peri russi questo. Il retroscena che emerge dall'inchiesta. Poi i nascondigli di Matteo Messina Denaro. I pizzini e i numeri telefonici del boss sulla scrivania e i segreti della latitanza. Le sorprese nella prima residenza. Dal poster di Brando nei panni del padrino al diario con i commenti sulle vicende politiche. E le cartelle con appunti e conti spendeva 10 mila euro al mese. Ieri trovato il terzo covo. Una casa vuota abitata. Fino a giugno. Nelle carte nomi e codici potrebbero essere legati a conti correnti o dossier. Avviate nuove indagini. Alla clinica Maddalena di Palermo. Personale sotto shock per averlo curato. La clinica assolda un team di psicologi. L'ordine convoca il chirurgo del selfie. Scatto inopportuno anche se non sapeva chi avesse accanto. E poi ci sono i fiancheggiatori. I medici e l'ex sindaco. I massoni nell'orbita di Messina Denaro. Le ricette, le cure e anche la dependanza al mare in uso al CNR. I nomi di chi l'ha aiutato nel paese che è il primato delle logge. Ben 10. Andiamo ancora avanti da Repubblica. Salario minimo, ambiente e lavoro. Si accende la sfida Bonaccini-Schlain. Lo scontro passa anche per le emozioni dei quattro candidati. Il governatore Emiliano. Stefano Bonaccini che è in testa ai sondaggi. Helish Lane è stata vicepresidente dell'Emilia Romagna. Poi c'è Gianni Cuperlo, si è candidato al congresso per ultimo. E l'ex ministra Paola De Micheli che ha guidato il ministero delle infrastrutture nel Conte 2. Andiamo ancora avanti. Avanti, il Qatargate. Caili resta in cella. Qui mi torturano ed è lite tra gli indagati del Qatargate. La deputata greca. Mi hanno fatto vedere mia figlia solo due volte. Mi tengono al gelo. Scambio di accuse con i legali di Panzeri. E poi Human Rights Foundation. Pagavamo la ONG di Panzeri. Ora vogliamo i soldi indietro. L'organizzazione americana per i diritti nelle carte dell'euroscandalo. I 150 mila euro per un evento al Parlamento dell'Unione Europea. 3 mila euro al mese alla figlia di Panzeri. Ma non abbiamo legami con il Qatar. Ancora da Repubblica. Andiamo in Ucraina. Stati Uniti ancora armi a Kiev. La Crimea è ucraina. Ma Berlino frena sui tank. Oggi a Rammstein il vertice degli alleati. Da Biden altri 2,5 miliardi di aiuti a Zelensky per prevenire la nuova offensiva russa. Scholz però non concedi. Leopard, il capo della CIA, Burns, in missione a Kiev. E poi il gruppo Azov nel Donbass. I russi sono troppi per noi. Ci servono i mezzi occidentali. La pressione di Biden su Putin e il rischio dell'escalation. Roma tiene il segreto sul materiale per Kiev. Lontani i Sampti. Opterà per i vecchi Aspide e i Centauro. Ultima pagina selezionata da Repubblica. L'inchiesta. Torniamo in Italia. Ferrari e Rolls Royce con i soldi delle rette. Nei guai il re delle università telematiche. Sequestro da 20 milioni di euro al fondatore di Unicusano. Fondi per calcio, radio e politica. Una storia di tasse e vase, di macchine ed elicotteri. E' un capodanno a Dubai. E poi la sentenza di Cagliari. Cambiando argomento. Lo ha illuso e lui è morto di cancro. Ergastolo al medico degli ultrasuoni. La moglie di una delle tre vittime. Lui capì e disse alla dottoressa. Ora sarò il tuo incubo. Perfetto. Questo è tutto per quanto riguarda Repubblica Nazionale. Prendiamo Repubblica Napoli. Adesso in apertura la disfida del San Carlo. La regione vota no al bilancio. Scontro con Teatro e Comune. Il consigliere nominato da De Luca si oppone al documento contabile di previsione. Che però viene approvato a maggioranza. Ha confermato il taglio dei fondi. Gelo con i vertici del lirico. E con Manfredi. Poi la protesta a Giuliano. I ragazzi disegnano le aule a terra. Con strisce di carta. Studenti sfrattati fanno lezioni in piazza. PNRR. Disaggi in venti licei e istituti per lavori. Poi il gambrinus ritorna a quello del 1938. Affittati locali della prefettura in via Chiaia. Ha recuperato la dimensione originaria. L'intervista con Heli Schlein. Oggi tour in campagna per lei. E arriva anche Bonaccini. Il disegno di legge Calderoli sull'autonomia regionale. È un progetto secessionista. Dice la Schlein. Andiamo avanti. Sempre da Repubblica Napoli. Caserta celebra il genio di Van Vitelli. La reggia un volano per l'economia. La direttrice Maffei con il ministro San Giuliano. Apre le celebrazioni. Manifestazione di interesse dalla triennale di Milano. Intanto per Palazzo Fuga. A Ischia. O meglio a Milano. La missione Ischia per rilanciare il turismo. Da oggi i workshop organizzati nella stazione centrale. Dall'assessore regionale Casucci. Focus anche su gastronomia e presepi. E poi San Carlo. La regione no al bilancio. Scontro con il teatro e con il comune. Ha approvato il documento contabile della fondazione. Ma solo Re Alfonso. Rappresentante di Palazzo Santa Lucia. Vota contro. E boccia la nomina del DG. E il piano assunzioni. Confermato il taglio dei fondi. Sullo sfondo. Battaglia tra De Luca e Manfredi. Napoli. Intanto si candida la capitale europea dello sport 2026. A giugno il dossier. A ottobre la decisione. Dopo che la commissione verrà in città per una verifica. Ma dovrà vincere la sfida con Saragozza in Spagna. E poi ancora da Repubblica Napoli. Castellammare. Il caso. Il porto escluso dai fondi PNRR. I soldi. 380 milioni. Andranno solo agli scali di Napoli e Salerno. L'ex sindaco Vozza. Strano destino. Forse dovrebbe chiamarsi porto di Salerno. E proprio stamattina una nave da crociera lascia lo stabilimento di Fincantieri. Questo è tutto per Repubblica Napoli. Prendiamo adesso cronache di Napoli. Spari e rapine. Terrore all'Arenella. In via Bernardo Cavallino. Saccheggio in un bar. E pallottole contro i negozi. Ai camaldoli. Cittadini in piazza contro i furti. L'urlo dei commercianti. Servono più controlli. Di sera qui è terra di nessuno. Poi una lama nel collo durante una rissa tra 20 persone. Incubo gang alla sanità. Il ventenne curato all'ospedale Pellegrini. Ha raccontato di aver provato a sedare la lite. La sua versione è al vaglio degli inquirenti. Poi Pozzuoli. Banda armata incendia il camion dei rifiuti. Malviventi incappucciati in azione in zona solfatara. Paura per i lavoratori. Si segue la pista del racket. A Giuliano l'omicidio maisto. In aula il pentito Salvatore Giuliano. Il fratello dell'ex boss di Forcella. E poi delega all'ambiente. Santa Gada sono a disposizione di Manfredi. Potrebbe ricevere una parte delle deleghe di Mancuso. Il Napoli. Oggi il provino decisivo per Quara. Osimena lancia la sfida. Vogliamo lo scudetto. Domani alle 18.00 il derby alla Rechi. Ponticelli. Armi e pizzo sugli alloggi. Gli affari del boss in gonnella. Il ruolo di Anna Amitrano tra i De Luca Bossa. Ad Acerra. In sette picchiano medico e infermiere. L'aggressione a Villa dei Fiori. Dovete visitarlo prima degli altri. E poi Torre del Greco. Un trentenne finisce in ospedale. Sbatte con l'auto contro il muro. E si ferma sul ciglio del burrone. Poi tante notizie in evidenza. Ancora da Napoli. Da Posillipo rapinato di denaro e gioielli all'interno del suo appartamento. Cardito. Nola, Palma Campania. Ercolano. Raide notturni in municipio. I ladri restano a mani vuote. E Castellammare di Stabbia. Lasciamo un cronache di Napoli. Prendiamo adesso cronache di Caserta. Casal di Principe stanato latitante dei Casalesi. Si nascondeva nel Residence Royal a Castelvolturno. Una 48enne nei guai per favoreggiamento. E' accusato di usura con l'aggravante mafiosa. E' coinvolto nelle indagini contro le cosche Bidognetti e Schiavone. San Felice. Camorra in comune. Le accuse si sgonfiano. Assolti Zagaria. Digiunta. E l'ex sindaco De Lucia. L'inchiesta su un presunto appalto pilotato. Non Dragone. Schianto in autostrada. Muore un operaio. Il furgone si è ribaltato. Il cinquantenne era in viaggio con cinque colleghi rimasti feriti nell'impatto. Poi Marcianise. Il giallo della sezione del PD. Sede inaugurata e mai attiva. Va aperta subito la richiesta di Musone. Poi Santa Maria Capoavetre. No. La ZTL nel centro storico. Bocciata. L'idea della minoranza. Scontro sul progetto percorso Garibaldi. Qui anche troviamo il Napoli. La vigilia della sfida con la Salernitana. La Casertana ha otto reti nel testo. Falchetti pronti per la Paganese. Doppietta di Taurino. Liurni e Guida. Ancora San Nicola alla strada. Mezzo chilo di ascici in frigo. Preso. Le dosi erano nascoste all'interno di una busta di latte. Capua finisce sott'acqua. Chiesto lo stato di emergenza. Scatta l'SOS al governo. Anche dal Casertano. Tante notizie in evidenza. Aversa. Villa Literno. Maddaloni. Teano. E Piedimonte. Matese. Lasciamo Caserta. Prendiamo le cronache di Salerno. Salerno è il caso. Deviazione del Fusandola. Comune inadempiente. Sindaco responsabile. Il deputato di noi moderati Bicchielli presenta una interrogazione al Ministro dell'Ambiente. C'è una pronuncia del GIP sulle irregolarità riscontrate per il crescente alla piazza. Pericolo per i cittadini. Poi congresso PD. Oggi Bonaccini a Salerno. La Schlein ad Angri. La sfida nella terra del governatore. Conservatorio Martucci. Mandi ha nominato presidente. Rinuncia. Il senato accademico vuole la nocita. È morto Mauro Pantani. L'idolo del vestuti. Pupillo del presidente Peppino tedesco. Il suo rammarico. Il capo di Barletta che ci costò la B. Due campionati con la salernitana. Protagonista anche ad Avellino. Genio e sregolatezza fu capo cannoniere e sfiorò la B. Aveva 83 anni. Salernitana dopo dieci anni arriva l'assoluzione per Antonio Lombardi. E poi ancora salernitana. L'ingegnere Urti. Case Green. Svolta epocale anche per la nostra provincia. Questo per quanto riguarda le cronache di Salerno. Il quotidiano del sud. Edizione Irpinia. Maltempo. Fantina in tilt. Alta Irpinia isolata. Dopo la frana la strada resta chiusa almeno fino a fine mese. E arriva già la prima neve nelle zone alte. Oggi nuova allerta meteo. Avellino. Il nuovo stadio. Si apre lo scontro. Consiglio comunale oggi in prima convocazione a rischio. La scomparsa di Mimimmanzo. Ilegali. Il movente è la droga. Monte Fusco. Strada chiusa da due anni. Esposto alla provincia. E poi Ariano Irpino. La stazione Irpinia. Vertice con buono pane. Calcio Avellino. Dionisi rinnova. Avellino beffato. Ma sono arrivati Tunkara, Mazzocco e Benedetti. I tre arrivi, i tre innesti della giornata di ieri. Benedetti non è ancora ufficiale. Lo sarà evidentemente nelle prossime ore. Lasciamo i giornali, però c'è anche un'ultima ora di cronaca che vi voglio leggere. Giusto un flash. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata. Abbiamo anche alcune immagini. Stanno dando esecuzione a una misura cautelare personale emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della procura o plontina nei confronti di 17 persone indagate a vario titolo per detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi. Un'operazione incentrata sul rione popolare Poverelli di Torre Annunziata. Seguirà un comunicato a cura della procura di Torre Annunziata nelle prossime ore. Evidentemente vi daremo ulteriori dettagli nel telegiornale delle 14. Adesso prendiamo il nostro sito ottopagine.it e andiamo in apertura sulla sezione Napoli dove troviamo droga, spaccio di estorsione, proprio la notizia che vi ho letto poco fa. Scatte il blitz a Torre Annunziata. 17 indagati. Operazione dei carabinieri alle prime luci dell'alba. E poi ancora Napoli. I carabinieri tornano a casa di un uomo arrestato a Mugnano. Ed ecco cosa accade. Una visita inaspettata per i familiari. Scoprite tutto nel nostro articolo. Poi da Napoli ci spostiamo su Salerno. E troviamo un risveglio con la neve nel Vallo di Diano. Ghiaccio in costiera amalfitana. Grandinata sul valico di Chiunzi. Mezzi spargisale in azione. Bloccato un bus della Sita. Il Vallo di Diano, gli alburni e il cilento imbiancati. Risveglio con la neve per migliaia di salernitani residenti nella parte meridionale della provincia. L'ondata di freddo annunciata anche dalla protezione civile regionale ha fatto sentire i propri effetti già nella notte. ma i fenomeni sono destinati ad intensificarsi con il passare delle ore. Scuole chiuse, protezione civile allertata. Grandinate e ghiaccio in costiera amalfitana. Questo in apertura su Salerno dove troviamo poi frode sui carburanti. 1,8 milioni di euro scoperti grazie al fiuto di Giambo. Nuovi sviluppi nell'inchiesta. Sequestrato anche un hotel ristorante di Montoro. Da Salerno ci spostiamo su Benevento. Ride dei ladri in Valle Caudina. Cassaforte e incassi nel Mirino. Colpi nella notte lungo Lappia a Ceppaloni e a Montesarchio. Ladri in azione nella tarda serata di ieri e nella notte a Ceppaloni e a Montesarchio. Nel Mirino due attività commerciali. Poi l'altra notizia che c'è in primo piano su Benevento. Processo migranti. Di donato. Maleventum mai favorita. Aveva vinto una gara d'appalto. In aula le dichiarazioni del principale imputato. Ci spostiamo poi su Caserta. E troviamo l'attitante localizzato e catturato nel Casertano. Ross in azione a Castelvolturno. L'arrestato è indagato per usura in concorso. Aggravata dal metodo mafioso. Ancora da Caserta. Fiume Volturno. Sindaci avvisati dal Consorzio per la piena eccezionale di questione. L'appello monitorate ponti e argini. Il Consorzio generale di bonifica del bacino inferiore del Volturno nella serata di ieri ha allertato con una nota i sindaci dei comuni della bassa valle del Volturno. Cioè capo a Grazzanise, Cancello e Arnone Castelvolturno per l'arrivo di questa piena eccezionale appunto nelle giornate di l'altro ieri e ieri. Poi bisognerà monitorare la situazione evidentemente anche oggi. Ci spostiamo su Avellino. Alta capacità Napoli-Bari è arrivata nella notte. La Talpa dell'Irpinia. All'appello mancavano le due teste frese. La prima destinata a Grotta Minarda e la seconda ad Apice. Ferme da un anno al porto di Barletta provenienti dalla Cina in attesa di studiare modalità di trasporto e percorsi per poter giungere in maniera agevole e sicura ad Ariano e ad Apice. Sono finalmente partite. Si tratta delle restanti parti delle due talpe che avranno il compito di perforare le gallerie. All'appello mancavano le due teste frese composte complessivamente da quattro pezzi. Ed eccole qui documentate anche nel video del nostro Gianni Vigoroso. L'altra notizia su Avellino. Lo sport, Avellino calcio, niente. Dionisi, l'attaccante, ha rinnovato con l'Ascoli. La punta era seguita con attenzione dai bianco-verdi. Ma Dionisi dice Ascoli una scelta di vita, sento mia la città. E qui ci sono le sue dichiarazioni. Ascoli passione allo Stato puro, orgoglioso di esserne il capitano. Ci spostiamo poi sulla sezione Campania, dove troviamo anche tante notizie di sport, ma anche il maltempo in Campania. Nuova allerta meteo arancione su tutta la regione, con pioggia, venti e anche nevicate a bassa quota. Quindi questo nuovo avviso di allerta meteo, con validità a partire dalle 12 di oggi, è scadenza alle 8 di sabato, di domani 21 gennaio. Poi naturalmente sulle sezioni Italia e Mondo, tante notizie che riguardano ancora e soprattutto lo sport. E in prima pagina, in riepilogo delle principali notizie del sito, Sant'Agata dei Goti, il crollo al cimitero, il sindaco vicini ai familiari. Già domattina avranno inizio i lavori, ha detto il sindaco. Chiedo scusa, questa amministrazione tutta chiede scusa alla città. E' l'unica cosa da fare in questo momento, così in una nota a firma del sindaco e dell'amministrazione comunale di Sant'Agata, dopo il crollo avvenuto nell'escursione nel cimitero del comune della Valle Caudina. Il sindaco dice che siamo addolorati e vicini ai familiari. Quanto accaduto è grave. E poi in prima pagina ci sono anche altre due notizie. Il ride dei ladri in Valle Caudina con la cassaforte in Cassi nel Mirino. E poi la notizia all'ultima ora da Torre Annunziata. Droga, spaccio ed estorsione scatta il blitz. Nel comune Oplontino, 17 indagati. L'operazione dei carabinieri alle prime luci dell'alba. Va bene, ci fermiamo qui con l'edicola di stamattina. Grazie regia ad Aldo Fenizio. Consueti appuntamenti li sapete alle 14, il TG News alle 14.30. Il TG Sport d'Angelo Giuliani. Buona giornata, arrivederci. Grazie a tutti.